Non apriamo una crisi ufficiale perché non ci sono le motivazioni, però ci sono le motivazioni perché come abbiamo detto prima è necessario fare prima una verifica, chiamiamola così sui programmi e su quello che sarà il governo regionale da qui in avanti, nel contempo per dare un segnale che comunque sia siamo perfettamente consapevoli di quello che facciamo, i nostri assessori non parteciperanno più raggiunto fin quando questa verifica non sarà fatta. La verifica ci sarà con il tavolo convocato in gran fretta lunedì mattina, lo ha assicurato il presidente della regione Marco Marsilio che ieri sera ha voluto porre così un'argine alla frana smossa dalle dichiarazioni dei vertici regionali della Lega che, indispettiti dalle nomine dei direttori generali delle ASL e dalla poca chiarezza su alcuni punti programmatici molto cari alla Lega a partire dalla questione delle autonomie differenziate, hanno minacciato di non far partecipare alle riunioni di giunta i loro assessori. Forte dei risultati elettorali e dei sondaggi quindi la Lega passa all'incasso dettando l'agenda regionale e aprendo una crisi di ferragosto che potrebbe nascondere problemi più profondi con un amore mai sbocciato tra Marsilio e i vertici della Lega stessa. A difesa del presidente della regione però si è elevato il suo partito Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale Sigismondi che si è detto stupito oltre che amareggiato per critiche ingenerose che cercano di sminuire il ruolo e le prerogative del presidente, nonché l'enorme lavoro svolto dall'intera coalizione. A difesa del lavoro della giunta si è schierato anche l'assessore regionale forzista Mauro Febo. Ogni volta che il centrodestra dialoga e si confronta si parla di... quando succede nel centrosinistra c'è un confronto democratico, un dibattito. Ma quando lo facciamo noi sembra che non è successo niente, si sta dialogando, ci sono punti di vista all'interno dell'amministrazione su cui c'è bisogno di confronto. Non mi sembra che ci sia nulla di eccezionale, nessuna crisi in vista. Se sono tranquilli gli amici del PD e del Cinque Stelle, il centrodestra va avanti, governa e sa governare molto bene. Nell'opposizione il Movimento Cinque Stelle con Sara Marcozzi parla di un teatrino che fa emergere uno strappo palese all'interno della maggioranza e attacca. Il fatto che il primo azionista della maggioranza non partecipi alle sedute della giunta è una decisione di una gravità assoluta che immobilizzerà il lavoro di un centrodestra che già adesso va a rilento. Di grave immobilismo parla anche il PD con il capogruppo Polucci e l'ex presidente di Regione, oggi senatore Luciano D'Alfonso. 6 marzo 2019 nasce la giunta Marsilio, 6 agosto 2019 si ferma la giunta Marsilio. Cinque mesi dalla giunta lenta alla giunta ferma. Si sono arenati su tutto in queste settimane, sui trasporti, il prezzo che arriva fino a un aumento dell'88% dei treni, la questione dell'incertezza legata alle autostrade, la legge impugnata dei trabocchi, la programmazione dei trasporti sotto scacco dalla sentenza del Tar, nessuna legge, la debolezza della programmazione sanitaria che si ferma di fronte allo scoglio del tavolo di monitoraggio e gli dicono siete rimandati e ripassate a fine anno rispetto ai veri problemi. In realtà questa giunta in questi mesi non ha fatto che litigare sulle poltrone. Che poltrone? Parliamo di quelle della sanità per le quali c'è stato uno scontro tra Marsilio, Biondi, gli assessori Aquilani, Fratelli d'Italia e la Lega. Io ho giudicato e fotografato che il presidente attuale è un presidente con il foglio rosa e mi sono anche impegnato a dargli il tempo per fare in modo che si trasformasse in foglio rosa in patente definitiva. Nei fatti vedo una difficoltà a prendere il cammino, un po' per le straneità rispetto ai problemi della regione e anche perché forse si è accorto che le questioni da affrontare sono più impegnative di quelle che immaginava. Avere fatto più uno durante la competizione elettorale attraverso le urne non significa poi avere stabilità e capacità di governare.